Si sa che si sta più veloci quando si sta sulla neve rispetto a che in aria. Molto sfretto intanto questo triplone e leggermente più lungo. Perde lo sci, perde l'esterno, finisce nelle reti. Gli sci si sono sganciati, si è aperto l'airbag. Muoviti Sofia, vediamo. Si mette a sedere, Sofia goggia una brutta botta nelle reti, intanto aveva già perso lo sci esterno. Piega le ginocchia, fa il senno col dito che è tutto apposto. Molto bene. Eh sì, abbiamo visto appunto, è stata molto stretta, più stretta delle altre, come dicevamo questo triplone permette diverse interpretazioni. Lei è voluta stare più stretta sul secondo palo, questo però cosa ha fatto? Ha obbligato appunto entrare sul piano e dover calcare su questa pendenza che tende la salita. Leggermente dentro, ha perso la punta su lo sci esterno, abbiamo visto sforbiciare. Si rimette in piedi. Bene, bene. Grazie. Grazie.